I dinosauri Antonio e Bruno sono solo alcuni dei pezzi forti del Museo di Storia Naturale di Trieste, un polo espositivo che contiene alcune vere rarità e che permette una visita completa della fauna storica, autoctona e non, tornando indietro di migliaia, se non a volte milioni di anni, fino ai giorni nostri. Questo è il reperto originale, mentre la grande ricostruzione è un esemplare, è un pupazzo, perché questo è un animale estinto, quindi è estinto circa 24.000 anni fa e per quasi un secolo era il simbolo del Museo di Trieste, stava proprio nel nostro logo, perché era proprio un animale simbolico, il tipico rappresentante della fauna diluviale, quindi dei grandi mammiferi estinti e lui viveva sul Carso, è stato trovato in migliaia di reperti, in alcune grotte, in particolare nella caverna Pocalla di Duina Urisina. A catturare l'attenzione dei cittadini e dei molti turisti che fanno tappa al museo, c'è la sezione dei dinosauri. I reperti di Antonio e Bruno sono degli elementi unici nel panorama mondiale per il loro stato di conservazione. Questo è il reperto originale, perché c'è il calco anche al sito del Villaggio del Pescatore, e quindi è un reperto unico, un genere nuovo per la scienza, una specie nuova, è uno dei dinosauri più completi e meglio conservati al mondo, per cui veramente ha il carattere dell'eccezionalità. Adesso vi presentiamo Bruno, questo è un esemplare unico al mondo, perché? Il dinosauro inizia con il muso, quindi uno arriva, lo vede davanti e vede il muso, la cassa toracica, il bacino e la coda, però poi deve seguire la coda, segue la coda, segue la coda, la coda a un certo punto sparisce, scompare e si ritrova dall'altro lato. Quindi c'è una piega di roccia, dove le ossa della coda non si spezzano, ma seguono proprio plasticamente la roccia che è curvata a 180 gradi, la coda scende, 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 ma poi c'è un'altra piega di roccia, quindi con un ricciolino la coda risale e termina. Come detto, sono numerosissime le esposizioni del museo, fra animali minuscoli come gli insetti, fino al più grande squalo bianco imbalsamato al mondo. Questo sì che ha un nome, come Antonio, è lo squalo Carlotta, e questo è reale, questo è un reperto reale del più grande squalo bianco imbalsamato al mondo, e quindi qualcosa veramente di eccezionale, ed è stato pescato nel Quarnaro, per cui in alto Adriatico, perché viaggiavano squali così fino alla prima metà del Novecento, quando c'erano ancora i tonni, perché loro inseguivano i banchi di tonni che salivano l'Adriatico.